Tutti parlano di aumenti, che i prezzi salgono, ma solo da Riccardo Corredi i prezzi scendono, grazie alla mia cometa che porta le grandi offerte di fine anno. Regalati benessere, lo paghi il prossimo anno. Materassi e cuscini, letti, poltrone alzanti, ma tutti di alta qualità italiana. Ti aspettiamo nei nostri showroom del riposo con le grandi offerte di fine anno. Auguri di cuore dal vostro Riccardo Corredi. Avete visto com'è bella la cometa di Riccardo Corredi? Non è soltanto bella, è anche molto conveniente, perché vi porta le grandi offerte di fine anno. E per saperne di più, linea Luca. Oggi si trova tutto a tutti i prezzi, ma secondo noi non si deve guardare solo il prezzo, ma cose d'acquista. Questi letti economici che si trovano in giro ci attirano come prezzo, ma solo dopo averlo acquistato ci rendiamo conto di cosa abbiamo acquistato. Con nostro padre abbiamo studiato il miglior letto rapporto qualità-prezzo. Ti diamo la possibilità di prendere un letto di altissima gamma ad un prezzo veramente accessibile. Questo non è un letto importazione, ma un prodotto artigianale, robusto, fatto per durare nel tempo. Vieni in negozio a scegliere il tuo modello. Tessuti e colori sono davvero tantissimi, pensati per adattarsi ad ogni arredamento. I nostri letti sono completamente personalizzabili in tutte le misure. Di noi ti puoi fidare. Ci sono tanti tipi di materasso, ma qual è quello giusto? Quante volte avrete sentito dire che il materasso in memory è troppo morbido, o che il materasso a molle è troppo duro? Non esiste un materasso giusto o sbagliato, ma quello adatto alla tua esigenza. Venendo in negozio potrai provare tutti i nostri modelli e capire il tipo di materasso migliore per te. Oltre alla postura, il materasso migliora anche la circolazione del sangue e la qualità del riposo. Solo così ti sveglierai bene al mattino. Grazie alla cometa di Riccardo Corredi in tutti i nostri negozi sono arrivate le grandi offerte di fine anno su materassi, cuscini, letti e poltrone alzanti. Tutti di qualità italiana. Adesso è il momento di regalarti benessere e se vuoi lo paghi in comoderate dal prossimo anno. Come tutti i nostri prodotti, anche le poltrone sono costruite da noi in Italia. Garantiamo oltre due anni di legge un'assistenza per l'intera vita del prodotto. Puoi scegliere tra tanti modelli, pensati per persone più alte o meno, per le persone più robuste o meno, perché non siamo tutti uguali e ognuno ha esigenze diverse. Via in negozio a provare il modello a un motore o anche a due motori, con il nuovo meccanismo gravità zero per sgonfiare le caviglie. Le nostre poltrone sono personalizzabili in tanti tessuti e colori. E poi approfitta del doppio vantaggio, IVA 4% e detrazione fiscale 19% in unica soluzione a fine anno. Tua da 20 euro al mese a tasso zero. Sono prodotti fatti a mano in Italia. Di noi ti puoi fidare. Ti aspettiamo nei nostri showroom del riposo con le grandi offerte di fine anno. Auguri di cuore dal vostro Riccardo Corredi. Riccardo!